Il 22-23 febbraio Il 21-23 porteremo a Roma l'incontro con il Papa Francesco con la statua di San Gustabile perché il 22 febbraio cade il 40esimo anniversario della elezione San Gustabile a Patrono Secondario della Diocesi. Ci stiamo preparando a questo evento già da tre anni, con un momento liturgico con il padre Scicolone che ha animato il tridio di San Gustabile. L'anno scorso con la riflessione su San Gustabile e la Madonna e San Gustabile è venuto anche qui ad Agropoli, a Santa Maria della Grazia, alla Madonna del Granato, nella chiesa madre San Pietro e Paolo. Abbiamo toccato alcuni punti che parlano della storia, del collegamento tra San Gustabile e questi nostri territori perché San Gustabile è il santo del Tresino che speriamo quanto prima di dare anche su questo posto un luogo tangibile e visibile che ricorda questo evento della nascita di San Gustabile. E quest'anno, dicevo, siamo l'ultimo anno in programma per questo pellegrinaggio a Roma da Papa Francesco. Evidentemente questo triennio è stato fortemente frenato dalle condizioni pandemiche. non abbiamo potuto realizzare quanto era in programma, però vogliamo e desideriamo portare avanti questo momento così importante. Allora ci porteremo appunto a Roma, la vigilia del 22 pomeriggio, celebreremo le Vespri nelle Glotte Vaticane e poi il 23 ci sarà l'udienza con il Santo Padre, la bendizione della Stata di San Gustabile e poi nel pomeriggio alle 15 e 30 la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica Patriarcale Vaticana celebrata dall'abbate Riccardo Guariglia, l'abbate di Montevergine che è originario di Santa Maria di Castellabate. Chi desidera venire può dirlo a me oppure a Jacopo Guida a Castellabate, Gennaro di Luccia a Santa Maria di Castellabate. Ed evidentemente è un momento grande, un'occasione di grazia perché è il Santo del Cilento che viene portato a Roma a cospetto del successore di Pietro. Quindi invito a quanti vogliono dire questo momento bello sicuramente, un momento di spiritualità a prendere parte appunto a questo avendo, chiaramente con tutta l'osservanza delle norme attuali ma il Papa continua a tenere l'udienza generale tranquillamente nella Sala Nervi quindi sarà l'occasione per tutti quanti noi per vivere delle giornate di forte spiritualità perché questo Santo, anche se è vissuto secoli o millennio fa, è un Santo attuale perché ci parla della carità, ci parla di questa attenzione e in questo contesto anche del Sinodo che la Chiesa sta celebrando, che proprio come tema comunione, partecipazione e missione diventa un ulteriore momento di grazia per riscoprire la spiritualità di questo Santo che nella Badia di Cava ha vissuto e testimoniato questa comunione, questa partecipazione a questa missione. Un Santo carico di Dio, uomo di Dio che ha saputo in quei tempi testimoniare e vivere una Chiesa in uscita, una Chiesa che va e è attenta al territorio, attenta agli arti, tant'è vero la costruzione del castello di Castellabate e quindi di Castellabate e opera sua, ahimè, molto giovanissimo, continuato dal suo successore Beato Simione ma che ha dato l'impronta vera dello stile del Vangelo, l'amore verso Dio e l'amore verso gli altri. Vi attendo il 22-23 febbraio, questo pellegrinaggio a Roma e all'udienza di Papa Francesco e la Messa nella Basilica Vaticana. È un momento importante per la nostra comunità, per il nostro eccellente, quindi chi desidera partecipare può rivolgersi a me oppure a Jacopo, a Guida, a Castellammato, a Gennaro Di Luccio o a Anna Maria Baccaro.